Gentile collega, stiamo osservando un caso di un falocele diagnosticato nel primo trimestre di gravidanza. La paziente viene alla nostra osservazione per eseguire l'esame di routine del primo trimestre, quindi quello della misurazione della traslucenza nucale e durante un attento studio del feto abbiamo individuato questo difetto mediano della parete addominale caratterizzato dall'erniazione alla base del cordone ombelicale, come stiamo osservando proprio in questa immagine, di ansia intestinali dello stomaco e vedremo poi anche del fego. L'intestino è generalmente l'organo erniato più frequente, ma anche lo stomaco, fegato e milza possono essere parzialmente o interamente presenti, ma non in oltre il 40% dei casi. Per libera comunicazione con la cavità peritoneale è generalmente riscontrabile un film liquido tra il contenuto dell'onfalocele e le membrane, ma in questo caso non l'abbiamo osservato. Il quadro ecografico varie relazioni alle dimensioni e dal tipo dei visceri erniati. L'inserzione centrale e di rapporti con il cordone rappresentano i segni distintivi primari rispetto alla gastroschisi, patologia e difetto con il quale immediatamente deve essere posta la diagnosi differenziale. L'onfalocele presenta malformazioni associate in quasi il 50% dei casi, più frequentemente difetti cardiaci, ma possono riscontrarsi anche estrofia vescicale, difetti del tubo neurale, la labioschisi, a volte anche l'ernia diaframmatica, ma chiaramente ci troviamo in un'epoca precoce in cui lo studio dell'anatomia fetale è limitativo. Per quanto, vedremo a breve, abbiamo eseguito lo stesso esame anche per via transvaginale, e stiamo osservando ora proprio le immagini condotte con l'altra sonda, e vedremo a breve anche con l'utilizzo di una sonda ad alta frequenza dove in quest'epoca si riescono ad osservare delle strutture anatomiche che di routine non si riescono a studiare appunto per la precocità di epoca. L'onfalocele si può comunque associare anche ad anomalie genetiche, tanto che alla paziente è stata comunque richiesta l'esecuzione e della consulenza genetica e del cariotipo. Studiando attentamente il feto, abbiamo osservato che vi è anche un'alterata curvatura del rachide fetale, con molto probabile presenza di disrafia. E' lo stesso rachide, che adesso lo stiamo osservando con la sonda ad alta frequenza, quindi con sonda lineare, possiamo osservare delle immagini sicuramente molto più precise. E' proprio in questa immagine che stiamo osservando tale difetto. Ogni qualvolta ci troviamo di fronte a tale patologia, conviene sempre di chiedere un controllo a distanza di 4 settimane per verificare l'andamento della patologia e le malformazioni assoluti.